In questo video parleremo di Orazio. Ne esamineremo gli aspetti essenziali, i momenti principali della biografia e cercheremo di iniziare a introdurne un po' l'opera e soprattutto la personalità. Orazio è uno dei poeti forse più famosi della latinità, alcuni dei suoi versi famosi come appunto quello del Carpe Diem, alcune sue espressioni come Laura Mediocritas sono rimaste poi anche nel parlato comune e la sua poesia ha avuto una lunga tradizione e alterne fortuna in verità, anche e soprattutto rispetto a quella che è la lettura che ne è stata fatta. Orazio del resto è un personaggio che da sempre viene discusso, viene studiato, viene esaminato. Poeta straordinario, poeta legato ad Augusto, poeta di corte a un certo punto e proprio per questo poeta particolarmente apprezzato in alcuni momenti della storia degli studi classici. Penso per esempio anche al ventennio, all'epoca fascista in cui in Orazio si intravide un po' il precursore di quella forma di letterato che poteva essere messo a servizio del regime, poeta per questo anche forse strumentalizzato in alcuni momenti della sua poesia. Chi è Orazio? Orazio nasce a Venusa nel 65 a.C. in un piccolo centro nel quale il padre, che era un liberto, quindi che era di origini molto umili, sembra fosse riuscito progressivamente a mettere insieme una discreta fortuna. La tradizione vuole, in particolare Svetonio, ma insomma abbiamo diverse fonti, che questo padre fosse stato inizialmente una sorta di commerciante. Svetonio parla quasi di una specie di pizzicagnolo, poi in realtà sarebbe diventato un coactor argentare su una specie di banchiera e in ogni caso avrebbe messo insieme una fortuna importante per quelle che erano le origini. Il padre è molto legato a Orazio. Un po' tutte le fonti sottolineano il legame fra i due e tutte le fonti sottolineano soprattutto come il padre, che aveva probabilmente capito anche le doti di questo ragazzo, cercò di farlo studiare. Prima nelle scuole di Venusa, dove Orazio ricorda di essere mescolato ai figli di importanti centurioni, i soldati, i veterani che avevano appunto ricevuto terreni in quella zona. Poi anche a Roma, dove appunto il padre si trasferisce, probabilmente anche e soprattutto per permettere a Orazio di studiare, a Roma dove per esempio Orazio racconta di questo maestro Orbilio che a suon di legnate lo definisce Plagosus, come dire, stimolava gli studi e gli studi soprattutto sui poeti latini arcaici. Come tutti i giovani del tempo, i giovani che ovviamente potevano permettersi un certo tipo di percorso culturale, Orazio fa anche un viaggio in Grecia ad Atene. L'Orazio che arriva a Atene è un Orazio giovane, è un Orazio che ha una ventina d'anni e che è preso dalle idee dei cesaricidi, tanto da essere tribunus militum nella battaglia di Filippi e da combattere appunto contro le forze di Ottaviano, Antonio e Lepido. È un Orazio che in questa fase sicuramente è molto lontano da quello che poi sarà l'amico di Augusto, il cantore, come si diceva prima in alcuni momenti della sua poesia del regime augusteo. Torna a Roma, torna a Roma perdonato appunto dai vincitori e da Ottaviano, torna a anche con qualche difficoltà economica, se è vero che dovette iniziare a svolgere questa attività di scriba questorius, era una specie di segretario di questo funzionario dell'amministrazione romana. Le difficoltà però non durarono moltissimo, Orazio in realtà in questi anni comincia a scrivere e intorno al 38 a.C. da Virgilio in particolare che gli era diventato amico viene presentato a Mecenate. Il primo incontro con Mecenate forse non permise a nessuno dei due di scoprire poi davvero la reale personalità dell'altro. Certo è che i due si risentirono a distanza di un po' di mesi e divennero poi da quel momento amici, amici inseparabili. Se è vero come è vero che Mecenate a un certo punto volle anche regalare ad Orazio una importante villa in Sabina, ma se è vero soprattutto che i due furono legati da un forte sentimento di amicizia. Mecenate fu vicino, o meglio, Orazio fu vicino a Mecenate anche nel 37 a.C. quando Mecenate fu impegnato in questo Iterbrunnisinum, in questo viaggio che lo portò a Brindisi per una missione diplomatica importante. Mecenate era una specie di braccio destro di Augusto, insomma, per molto tempo stette vicino al Princeps fino al 23 a.C. quando si allontanò dalla corte, probabilmente perché un suo parente era stato implicato anche in una congiura. In ogni caso Mecenate e Augusto restano i due punti di riferimento di Orazio, il quale dopo la fine politica di Mecenate si ritira ancora di più a vita privata, fino poi a morire nell'otto a.C., tra l'altro nello stesso anno del suo grande amico Mecenate. C'è da dire che negli anni che precedono la morte di Orazio, Augusto, che lo stimava particolarmente, che probabilmente si era affezionato anche a questo personaggio, a questo poeta, gli offrì di restare a corte e di diventare una specie di suo segretario particolare. Orazio rifiutò, declinò l'invito pur rimanendo legato ad Augusto e Svetonio racconta appunto nella vita di Augusto che l'imperatore più o meno scherzosamente ripetesse a Orazio tu temi che i posteri ti rinfaccino la mia amicizia. Insomma, era un rapporto sicuramente molto particolare quello che univa l'imperatore e il poeta. Si diceva Orazio uno dei poeti più noti, più importanti della latinità, uno dei più grandi sicuramente, poeta che scrive diverse cose. Le opere di Orazio in effetti toccano aspetti diversi della cultura letteraria antica e non solo latina perché Orazio, un po' come tanti poeti di epoca augustea, si rifà espressamente e direttamente ai modelli greci. Quello che si nota anche scorrendo un po' l'elenco delle opere oraziane è che la cronologia ci presenta opere, come dire, che si mescolano le une alle altre. Quella che è la sua prima opera, prima opera perché appunto cominciata in epoca piuttosto tarda, siamo nel 41 avanti Cristo, all'indomani della battaglia di Filippi, è un'opera per esempio che lo impegnerà per più anni perché i componimenti di questo libro di Epodi si scaglionano in un arco di tempo che varia di circa una decina d'anni. Arco di tempo durante il quale Orazio aveva già pubblicato per esempio il primo libro di Satie. Così come anche per l'una delle ultime sue opere, ovvero sia le epistole, siamo davanti a composizioni che si scaglionano in un arco di tempo piuttosto vasto. Quindi dicevamo un libro di Epodi. Gli Epodi sono componimenti giambici che si rifanno, vedremo poi meglio al poeta greco archiloco, e due libri di satire sul modello che era stato già per esempio di Lucilio al quale Orazio si avvicina, insomma si richiama, quattro libri di odiche in metri lirici greci di vario tipo, dattilici, alcaici, sastici, anche archilochei, due libri di epistole, anche queste in esame, quindi anche queste diciamo molto vicine alla scrittura delle satire, e poi un componimento molto particolare che è il Carmen seculare che gli viene commissionato nel 17 a.C. ad Augusto proprio per i ludi seculares. Chi è Orazio? Ma se dovessimo dare una risposta a questa domanda con Luca Canali in un recente libro sulla poesia latina, beh Luca Canali definisce Orazio il primo grande neurotico della poesia latina. In verità in questo passaggio del suo testo lui fa anche un riferimento a Lucrezio che definisce una specie di maniaco depressivo. Però questa definizione, il primo grande neprotico della poesia latina, è una definizione che ci aiuta se non altro a iniziare, a familiarizzare con una personalità sicuramente complessa, fragile, nella quale una serie di ansie, di problemi, una serie di elementi se vogliamo della vita rappresentano sicuramente anche forme di interrogativo, di domanda, di disagio per certi aspetti. C'è un passaggio secondo me molto bello, scritto in maniera molto chiara, molto orniale di questo testo di Luca Canali, che ci può aiutare a capire meglio chi era Orazio e ci può introdurre forse anche a qualche passo significativo della sua opera. Si può dire che Orazio, diciamo così, fosse quasi, come dire, tormentato da alcune paure. Orazio nella sua poesia fa spesso riferimento al tempo, lo scorrere inesorabile del tempo e la paura della vecchia e della morte. Sono questi un po' i due temi, anche secondo Canali, che sono alla base della grande poesia oraziana. Ma, dicevamo, in questo capitolo di questo testo viene fuori, e in questo passo in particolare che vi ho riportato qui sulla slide, vengono fuori alcuni tratti che, secondo me, caratterizzano bene poi quella che sarà la produzione oraziana. Innanzitutto, dice Canali, Orazio era un uomo d'ordine, cioè Orazio è un conservatore, Orazio è legato, per esempio, al moralismo, anche ad un certo tipo di visione della vita tradizionale, che era di stampo catoniana. Orazio è un augusteo proprio nel senso più ampio della parola, laddove per augusteo vogliamo intendere proprio quel romano, quel civis, che Augusto cerca, peraltro, in tutti i modi di perseguire, fedele alle tradizioni degli antenati, fedele alla famiglia, fedele soprattutto a un'idea di Roma, che è quella della grandezza di questo impero, ma che è anche quella dell'onestà, dell'integrità, di tutta una serie di valori. Orazio è appunto questo, è un uomo d'ordine, dice Canali, nella sua apparente mollezza e oppigrizia, forse proprio a causa di questa, quasi che Orazio non avesse né voglia né forza di cambiare. Orazio è anche un filosofo, ma viene definito, anzi, un epicuri de grege porcus, cioè un membro, diciamo così, del grege del bestiame di Epicuro. È un epicureo? Probabilmente sì, ma è un epicureo nel senso degli studi, nel senso della vicinanza soprattutto a certi elementi della filosofia epicurea, soprattutto l'idea del capos, del giardino in cui ritrarsi, e la sua villa in Sabina diventerà un po' questo. Orazio è anche però un eclettico, la sua vera filosofia è il buonsenso quotidiano, quello che poi gli viene anche dalle, non solo dagli studi, ma forse anche dall'educazione paterna, da quello che l'ambiente familiare era stato. Poi aggiunge Canali, Orazio era un uomo di fragile costituzione psichica, più che fisica. A Roma si sentì sempre a disagio, e questo un po' è, come dire, la conferma di quello che si osservava, cioè il vivere lontano, il vivere distante dagli altri, il vivere anche lontano per esempio da quella corte che invece Augusto gli apre, che Augusto gli offre, è un elemento che fa parte del suo modo di essere, forse più ancora che degli studi epicurei che pure dovette fare. Aveva bisogno di protezione, di appartarsi, di essere solo, ma anche di sentirsi protetto. In questo l'amicizia è l'amicizia sincera che mecenate gli offrì, dovettero essere per lui sicuramente un refugio importante, così come anche la presenza di Augusto. Canali dice la simpatia un po' scansonata di Augusto, che forse guardò anche con qualche perplessità a questo giovane, poi a questo poeta importante che ne celebrava la grandezza ma che quasi non voleva troppo restare accanto a lui. Ecco perché, si diceva prima nella storia degli studi classici, alcuni momenti del nostro novecento hanno visto prevalere un'attenzione alla poesia cortigiana di Orazio, cioè quella poesia più legata al regime. Ebbene, secondo Canali anche questi, anche questa accusa quindi di cortigianeria e di adulazione forse va un attimino limitata. È vero, Orazio fu fedele ad Augusto, fu un entusiasta apologeta in alcuni momenti di Augusto e di mecenate, ma fu sincero. E questa sincerità, come giustamente osserva Canali, poi non sempre produce alta poesia. In effetti la poesia politica oraziana, la poesia più legata a questa fase di Orazio, forse quella in alcuni momenti è quella che riesce meno. Tutto questo per iniziare a dipingere un po' il quadro di un personaggio che, come si vede, poi è molto moderno, perché sicuramente alcuni dei temi cardine della sua poesia, ma direi anche alcuni aspetti rilevanti del suo pensiero, soprattutto questa centralità del tempo e questa voglia quasi di allontanarsi da tutto ciò che rende la vita più difficile, più neurotica, più stressante, beh tutto questo lo fa sicuramente un cantore importante della umanità e delle emozioni degli uomini.